Il principio di fare scleroterapia ascendente partendo dal basso con un vendaggio estremamente strong per un mese e questa è una delle tecniche, l'altra quella che io preferisco è quella di fermare i salti di compartimento, qui noi abbiamo sicuramente un salto di compartimento con un ramo che si è formato che è la conseguenza di un iperafflusso turbolento, con questa tecnica io cosa vado a fare? Chiudo una turbolenza ed eventualmente trasformo